Ciao amici voglio farvi vedere al volo cosa uscirà il 3 febbraio sul percorso creativo dedicato al carnevale e dedicato a questo artista che è Murakami. Andremo alla scoperta di questo artista che disegna questi fiori non enormi, ovviamente questa è solo una serie delle opere di Murakami che io ho scelto per questa letta di FA, lo step by step di come disegnare i fiori e poi la matrice anche per il sostegno che vedete può essere completata e anche ovviamente il video in cui disegniamo insieme. Ho dedicato anche una parte a questa pixel art che Murakami fa, quindi non ho ridotto i fiori io in pixel art ma l'ha fatto proprio l'autore, c'è anche la griglia. Vi faccio vedere anche le mie prove di fiorelloni, quelli che poi ho utilizzato per creare le decorazioni che ho fatto col cartoncino colorato perché ovviamente io provo sempre tutte le attività prima di metterle in bella e di fare i video eccetera eccetera, insomma c'è un po' di lavoro dietro. Voglio farvi vedere anche i fiorelloni che io ho fatto e appeso, eccoli qua sulla vetrina, qui come vedete è già buio ma insomma si vedono, sono secondo me molto carini e li faremo insieme.